ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video questo qui un video dove io ho fatto una copertura a questa mia cliente ha deciso di fare una copertura anche se comunque ha delle unghie piccoline insomma cortine però lei ha preferito una copertura io ho solo applicato una tip come vedete qua nell'anulare per farle leggermente un po' più lunga insieme a quelle altre unghie e sono unghie molto difficili quindi scusate se non sono venute benissime ma sono veramente difficili perché hanno talmente il dito tanto tanto largo cioè le unghie le ha proprio letto uguale delle unghie è molto molto larga quindi non è stato facile insomma farle lei comunque stata soddisfatta e sono piaciute molto perché tanto che non faceva ecco non usava il gel insomma non applicava il gel eccetera eccetera e quindi è stata molto contenta del risultato e ero fatta un po' a mandorlina diciamo lei voleva la mandorlina perché eravamo decise se fargli una ricostruzione per una copertura poi ho detto adesso proviamo un'unghia proviamo a limarla e vediamo un po' se se non erro comunque sempre di passione unghie e ovviamente la prima passata non pare in grande bellissimo invece no è molto bello come colore perché la prima passata è molto trasparente e poi andrò a applicare la seconda passata infine lucido oltre al gloss di passione unghie e l'olio catticole e niente spero che il video vi piaccia se sarà così metterete il pollice in su se lo volete sotto nei commentati e niente vi lascio il video e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao